benvenuti a tutti in questo mio primo video tutorial per quanto riguarda Baldur's Gate 3 andremo a vedere oggi come aprire il libro la necromancia del thai usando l'oggetto ametista oscura allora la necromancia del thai andiamo ad esaminarlo questo libro vedete abbastanza inquietante guardate resistente praticamente a qualsiasi cosa tranne a le magie radiose c'è le magie di luce questo è un libro che abbiamo trovato esattamente in questa stanza nel laboratorio segreto quelle sono trappole era qui sopra ovviamente vi consiglio di farlo con un personaggio di classe ladro e siamo esattamente qua esattamente questa è l'entrata dovrei tirare una leva per aprire la porta e l'entrata è esattamente qua dietro questo bar vi faccio vedere la mappa qua in questo punto per riuscire ad aprire il libro perché il piccolo video che vi verrà mostrato dopo aver trovato il libro vi suggerisce di distruggerlo voi in questo caso potete aprirlo recuperando una gemma e adesso cercherò di recuperarla anche se sono di livello basso vi mostrerò in quale modo poi usarla ecco qua l'entrata il pozzo è praticamente vicino a dove eravate prima dovrete calarvi all'interno del pozzo fare il piccolo dungeon che vi separa davanti e uccidere la regina dei ragni una volta dentro questa caverna uccisa la madre della regina che mi ha fatto veramente dannare andiamo a cercare questo benedetto tesoro questa gemma che ci servirà per aprire il libro è la amatista oscura eccola qua perché non promette bene ma ecco qua la nostra amatista oscura infatti c'è il diario aggiornato e tra poco vi farò vedere quello che succederà ad aprire il libro allora amici ci siamo siamo pronti a cominciare il nostro piccolo esperimento cioè inserire la gemma che abbiamo trovato poco fa c'è questa qui la amatista oscura dentro al libro della necromanzia del thai vediamo cosa potrebbe succedere dice che il libro è sigillato e potrebbe accogliere un oggetto all'interno della tua bocca questa mi sta sulle palle ma è abbastanza forte inseriamo la nostra ametista vediamo cosa succede molto inquietante vedete combacia perfettamente e ora apriamo il libro il libro è irresistibile ti senti cambiato ti senti cambiato per aver abbonato ti senti capace di tutto chi dice di fare un tiro a salvezza per voltare pagina io ho usato lui che ha tantissimi bonus usiamo tutti quelli usabili e 10 il primo tiro è andato bene possiamo voltare pagina un altro tiro a salvezza questa volta dovrò fare 15 è un piccolo problema aggiungiamo un altro bonus è andata bene di poco il prossimo tiro sarà un problema e adesso era un problema ma qui diciamo che siccome non sono coglione salverò e vai con il tiro a salvezza tiriamo il dado e infatti ho fatto bene a salvare proviamo nuovamente a tirare e questa volta ci siamo non ci fotte nessuno non ci fotte non ci fotte abbiamo visto troppo quale profana che è ora svegliato dentro di te che non dovresti mai aver known apriere l'antico tomo siamo riusciti a leggere la maggior parte del libro osservando parte del suo potere necromantico e si è chiuso prima che potessimo finire adesso in un altro modo per arrivare alla fine quindi lascia di intendere che potremmo aprirlo ancora quali segreti avrà carpito il nostro personaggio eccoli qua parlare con i morti dovrebbero essere questi sinceramente non so dirti se c'erano anche prima perché ho fatto level up da pochissimo controlliamo se c'è qualcosa ne è niente ecco qua il libro è esaurito grazie a tutti